buongiorno ho letto un po di commenti vostri al video di ieri e vi porto l'esempio di come quando si vuole andare avanti con un'idea si mette questo cioè il paraocchi immagino sapendo di dire una cosa per il gusto di dirla senza ovviamente riflettere uno di voi mi ha scritto a proposito di enderson se dovesse arrivare che ha 34 anni questo a 34 anni e poi mago marx lancia i giovani uno ammesso che arrivi uno di 34 anni e quanti giovani si sono in squadra quest'anno il rapporto al di là del fatto che si è sempre detto giovani ok ma affiancati anche da giocatori di esperienza ma pur di andare contro allegri si fa notare sta roba qua 100 cose vanno bene una è diversa da quelle 100 e si forse ci si focalizza su l'unica caro mio ti dispiace che la juve stia vincendo questo periodo evidentemente ti dispiace molto che allegri stia portando la squadra al secondo posto ti dispiace quindi continua a sperare che la juve stia fuori dalle coppe così cacciano via il male del calcio c'è gente che ragiona così la gente causano così bisogna prenderla così siccome certe cose mi vengono scritte e quindi restano a disposizione di tutti perché sono pubblicate leggibili a tutti io rispondo né più né meno ok va bene però è veramente triste detto questo già lo affare fatto come si è detto negli ultimi giorni le cifre sono 3 milioni più altri tre e mezzo di bonus più una percentuale a futura rivendita mi raccomando adesso che si dica che la juve prende solo giocatori rotti perché sicuramente arriveranno commenti anche in questo senso solo giocatori rotti ha 18 giocatori rotti la juve solo giocatori rotti e quindi aspettiamo che arrivi per le visite mediche ormai per tutto l'iter eccetera poi diazzi si è già detto ci sarà martedì a vedere juventus a solo anche questo popovic ma sono tutti i giocatori questi giocatori da aggregare alla next gen sulla quale arriva immancabilmente perché si sentiva un po di nostalgia del nome di zero e zeeman che per carità ha avuto anche un problema fisico molto serio ultimamente e a quale va sicuramente tutta la solidarietà ci mancherebbe altro ma non potendo più competere con la juve prima squadra e dovendo competere con la juve next gen ha pensato bene di dire che sostanzialmente la juve ruba nell'esempio che deve salvarsi ma stavo solo aspettandolo che adesso venga presa di mira la di mira la next gen perché rischia di essere retrocessa e quindi ci sarebbe un ridimensionamento di questo serbatoio eccetera 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 aspettavo solo questo aspettavo solo questo ed è appunto aumenta arrivato adesso state tranquilli che ad ogni partita della next gen ci sarà qualche cosa da dire ogni partita della next gen ci sarà qualche cosa da dire se la vince quando vincerà ci sarà qualche cosa da dire me l'aspetto faccio il il conto così come avete visto che quello che è successo ieri a salerno non entro nel merito ognuno si faccia l'idea che vuole demme in occasione del poi del gol del 2 a 1 del napoli no stavolta hanno consentito ad in zaghi di andare a parlare ha detto praticamente le stesse cose del ds milan della settimana precedente però stavolta hanno mandato in zaghi a parlare e non il direttore sportivo sarà forse perché la cassa di risonanza un po diversa se si parla in una partita post juventus o post napoli al di là del fatto che poi la salentata può fare tutte le riflessioni che vuole sul suo campionato era passata in vantaggio ma adesso non voglio non voglio andare a guardare in casa ad altri io ripeto sull'episodio non mi esprimo non dico nulla ci sono le immagini non dico niente lascio parlare le immagini ognuno si fa si fa l'idea l'idea che vuole è la differenza no se avete notato tra salentare juventus in cui a inzaghi viene imposto di non parlare e si presenta o comunque decide lui di non parlare solo so come sia andata e si presenta l'avvisatore delegato scusate ancora una volta sbagliato alla vita che mi chiedo scusa direttamente l'avvisatore delegato della salentana stavolta diciamo c'è un po meno di cassa di risonanza diciamo una cassa di risonanza più della campagna che a livello nazionale probabilmente e allora può andare a dire le stesse cose più o meno filippo inzaghi vabbè comunque funziona in questa maniera ma lo sappiamo da anni cioè si sa da anni che funziona così quindi va bene così notizie buone arrivano dal dagli allenamenti della continassa perché come era prevedibile chiesa ha proseguito il suo iter che lo ha portato quindi dal parzialmente in gruppo al totalmente in gruppo stamattina è chiaro che se anche domani dovesse lavorare in gruppo e al momento non ci sono contraindicazioni in questo senso sarà disponibile al cento per cento martedì sera disponibile vuol dire che è presumibile che parta dalla panchina perché normalmente quelli che stanno fuori poi specialmente per il ruolo che lui ricopre gli si richiede tanta corsa scatti eccetera insomma con un po di prudenza l'ha gestito e rientro lo abbiamo già visto è successo anche le altre due volte che era rimasto fuori mentre rabbio ha fatto parzialmente ha fatto qualcosina col gruppo su rabbio sono meno ottimista si è meno ottimista in un centro niente si è meno ottimisti in ambiente juventus un po meno ottimisti quindi non mi stupirei se per la partita contro il sassuolo rabbio non fosse nemmeno convocato per la panchina non lo so sembra così non mi stupirei in ogni caso si lavorerà sul suo recupero per domenica prossima contro il il lecce una trasferta delicatissima però bisogna occuparsi una volta per volta ci arriveremo domani ci sarà la conferenza stampa di massimiliano allegri quindi cercheremo di capire un pochino di più come la situazione va da sé che se non ci sarà rabbio giocherà credo miretti anche perché poi manca pure mckenny in quanto squalificato alexandro mi risulta si è recuperato e quindi dovrebbe giocare lui in difesa con danilo e bremer quindi danilo bremer alexandro perché gatti è squalificato in questo momento rugani sembra essere tornato un po indietro nelle gerarchie nelle scelte di massimiliano allegri pensare che abbia pesato un pochino anche quelle dichiarazioni avevo pesato un pochino quelle dichiarazioni del post juventus salernitana di coppa italia non sembra essere così fuori strada così è a sensazione a sensazione va bene mi fermo qua ragazzi io direi oggi se non succede qualcosa di particolare durante la giornata mi fermerei a quest'unico video e quindi poi riprendiamo con il ritmo normale domani se succede qualcosa ci sono vi arriva la campanella iscrivetevi al canale se lo avete ancora fatto e ci vediamo questa sera eventualmente altrimenti appuntamento domani buona domenica ciao